Quando noi avevamo il nostro medico, che non è che fosse particolarmente originale, però era il nostro, che avevamo inaugurato sin dal primo figlio di Cino Verdezio. E cioè io gli facevo leggere la sceneggiatura prima ancora di girarsi fuori. In certi casi, addirittura, c'è chi raccontava la storia quando ancora la stava sceneggiando e già cominciavamo a parlare. E sulla sceneggiatura trovavamo insieme quali fossero i elementi della storia ai quali agganciarsi per costruire una parte di una musica. E dopo Cino Verdezio discuterà ora e ora. Di cosa abbiamo bisogno di qui? Sicuramente di un tema della stessa scenografia, cioè di un tema del Cino Verdezio. Poi ci vuole un tema d'amore necessario, perché tutto il film è un tema. Poi ci vuole un tema dell'infanzia. Siccome questo bambino lo sogniamo finché diventa maturo, egli non lo fece diventare il tema dell'infanzia e della maturità. Quindi un tema di un certo punto si trasforma. Erano tutte discussioni, se vuoi astratte, ma che erano pilotate dalla struttura del film. A quel punto lui, per ciascuno di questi temi, me ne faceva ascoltare tre, quattro, cinque. Tutti bellissimi, questo era il problema. Io dovevo sceglierne quello che non era il migliore. Il problema qual era? Che appena io decidevo uno, tutti gli altri li straffavano. Allora io li imparai e non dovevo dire subito quale mi piacesse. Allora nel corso degli anni ho anche imparato talvolta a ricostruire un tema prendendo il meglio dei vari temi che mi piaceva ascoltare. Gli chiedevo l'introduzione di uno, l'inciso di un altro, il finale da un altro ancora. Lui certe volte mi diceva che erano delle buone intuizioni e mi diceva sentire. Quando avvertiva che io stavo commettendo un errore che stavo venendo qualcosa di antimusicale, lui me lo diceva e me lo spiegava. Dopodiché lui registrava le musiche. Lì non è che io andassi sul set per girare il film. Poi, a riprese finite, a montaggio e ultimato, io gli facevo vedere il film che aveva già le musiche del film. Nei punti in cui io ritenevo necessario ci potessero essere un musicale. Solo che, ovviamente, avendo lui registrato il tema a fuoco, talvolta come durata non aderirla alla scena mutata. Talvolta era corta, talvolta era lunga. Allora lui rimetteva le mani al tema musicale. ovviamente manipolando il tema che io avevo utilizzato e lo ridisciplinava sulla base anche dei sintomi della nuova durata e ritornava in sala così. Quindi era un metodo meraviglioso. Per i produttori non tanto, perché ovviamente era un po' più costoso perché si doveva tornare in sala con l'orchestra più di una volta. Però noi abbiamo sempre fatto così, assolutamente sempre. Grazie.